La scorsa settimana il pubblico italiano ha assistito al tanto atteso ritorno della Talpa, un reality show che ha segnato la storia della televisione. La conduzione di Diletta Leotta ha suscitato curiosità e aspettative, soprattutto dopo anni di assenza dal piccolo schermo. La prima puntata ha messo in luce le novità del format, ma anche le critiche da parte di chi ha vissuto l'esperienza in passato. Franco Trentalance, ex concorrente e talpa dell'edizione del 2008, ha espresso le sue perplessità riguardo alla nuova edizione. In un'intervista a Fanpage ha sottolineato l'assenza della diretta, un elemento che secondo lui potrebbe compromettere l'autenticità del programma. Non c'è la diretta, cosa che può essere un problema perché nessun aspetto del programma potrà essere corretto in corso d'opera, ha dichiarato Trentalance, evidenziando come la mancanza di interazione in tempo reale possa influenzare l'esperienza sia dei concorrenti che del pubblico. Un altro punto critico sollevato da Trentalance riguarda la scelta della location. La nuova edizione si svolge a Viterbo, un cambiamento significativo rispetto alle ambientazioni esotiche delle edizioni precedenti. La talpa è un adventure game. Girarlo nel Lazio invece che su un fiume in Sudafrica dà un'impressione diversa dell'insieme. Ha affermato, sottolineando come l'atmosfera possa influenzare la psicologia dei concorrenti. La conduzione di Diletta Leotta è stata accolta con entusiasmo, ma Trentalance ha notato alcune differenze rispetto alla sua conduttrice preferita, Paola Perego. È seria, preparata, professionale e molto bella, ma un po' rigida forse, in mancanza della diretta risulta un po' ingessata, ha commentato. Nonostante ciò ha riconosciuto il talento della Leotta, che si trova a dover gestire un'eredità pesante e un pubblico esigente. Con l'identità della nuova talpa già oggetto di discussione, Trentalance ha puntato il dito su Lucilla Agosti, descrivendola come una concorrente con le giuste caratteristiche per il ruolo. La sua analisi si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sui reality show contemporanei. La talpa, insieme a programmi come Temptation Island e Grande Fratello, ha subito trasformazioni in Oceania.